Ciao a tutti e da Rosi, benvenuti all'appuntamento con Outlet Divani. Non sembra, ma siamo circondati da divani, vero Ottavio? Esatto, ciao a tutti, ciao Rosi. Siamo qui nel nostro magazzino centrale di Outlet Divani. Come potete vedere qui abbiamo, visto che è il mese di agosto, quindi questa promozione sarà improntata proprio sul discorso del pronta consegna. Quindi noi ad agosto ci siamo, siamo aperti e improntiamo tutta la nostra forza vendita sul pronta consegna. Quindi potete venire nei nostri negozi, possiamo darvi o qualcosa di esposto, quindi con sconti extra, oppure come potete vedere questi sono tutti i divani che abbiamo messo in casa in questo mese di, insomma prima di luglio ed agosto, che possono essere consegnati ad agosto, oppure se volete comunque venirli a prenotare ad agosto, potete poi tranquillamente farli consegnare a settembre. Quindi avete anche l'occasione di poter vedere il nostro magazzino. Una cosa importantissima è che se poi dovesse avere qualche ritardo, quindi di consegna della casa, oppure dei ritardi insomma dovuti a qualche piccolo inconveniente, noi non facciamo pagare nessun costo in più di logistica. Quindi voi prenotate il vostro divano, lasciate la vostra caparra, il 50, 100, 200 euro, quello che ritenete corretto, sul pronta consegna e se siete in ritardo lo teniamo qui noi, nel nostro magazzino interno. Se siete in ritardo voi, ecco perché mi sembrava aver capito, ecco perché qui ritardi non ce ne sono perché c'è veramente tantissimo in pronta consegna, ma se voi per qualsiasi motivo magari vi arriva una vacanza improvvisa, 7, 8, 10, 15 giorni di ritardo. Senza nessun costo aggiuntivo, quindi nessun tipo di problema e le consegne sono sempre gestite da personale al nostro interno, quindi anche persone di fiducia che è molto importante che vengano a casa perché oggi giorno non si sa mai poi chi può entrare in casa e quindi sempre il personale gestito da noi, movimentazione e merci gestite da noi e pronta consegna a prezzi fantastici per il mese di agosto. Ci spostiamo in negozio e andiamo a vedere le promozioni. Ed eccoci qua, ci siamo trasferiti a Varedo in uno dei punti vendita, ma come vedete ce ne sono tanti a vostra disposizione. Sì, sono sempre i nostri cinque punti vendita tutti in Lombardia, sono Assago, Lissone, Varedo, Erba e Lecco, quindi vi aspettiamo. Vi ricordo che comunque siamo aperti tutto agosto, quindi siamo qui, chiudiamo solo probabilmente i giorni centrali di Ferragosto, un paio di giorni, ma per il resto siamo sempre qui, come avete visto, con un sacco di pronta consegna. Infatti questa puntata è improntata proprio su quasi, perché non riusciamo a presentarli tutti, però riusciamo a presentare magari quelli un pochettino con un rapporto qualità pezzo migliore, dove sono tutti in pronta consegna. Quindi venite qui il primo di agosto, il 3 di agosto ce l'avete a casa. Quindi andiamo a vedere e li scopriamo. Partiamo di vaniletto, sempre in pronta consegna, ricordiamo che siamo specialisti di vaniletto, quindi abbiamo più di 100 modelli che potete scegliere ad angolo, penisola, con i cricchetti regolabili, schienari particolari, abbiamo anche i braccioli larghi, stretti per le esigenze di spazio. Partiamo con il nostro divano Atlanta Promo 12, un divano completamente sfoderabile, ha dentro all'interno un materasso 140 cm x 190 cm, le nostre gomme certificate dalla nostra fabbrica in Brianza, pensate, un prezzo stratosferico in pronta consegna 690 euro. Come vedete nelle immagini, rete elettrosaldata, completamente garantita dalla fabbrica, in pronta consegna a casa vostra, in due giorni, materasso 140 x 190, prezzo 690 euro. Ecco qua, siamo sempre nel reparto di vaniletto, Promo 17, rispetto all'Atlanta 12, questo ha dentro un materasso 17, già il materasso è molto più importante perché è l'altezza chiaramente più alto, ha il bordo 3D, come vedete nelle immagini qui, di materasso sempre completamente sfoderabile, che in pochissimi ce l'hanno nei divani letto il materasso sfoderabile, misura sempre 190 cm, materasso alto, questo in pronta consegna a 790 euro in pronta consegna a casa vostra, sempre un divano completamente sfoderabile, come vedete nelle immagini, rete elettrosaldata garantita dalla fabbrica, due giorni a casa vostra. Vi ricordo il prezzo, 790 euro scontato più del 50%. Ecco qua, ancora un altro divano letto in pronta consegna, un colore bordeaux rosso, come vedete nelle immagini, in pronta consegna a 890 euro, un prezzo scontatissimo più del 50%, un materasso alto, braccioli slim, bordino come vedete in contrasto sul colore del divano, sempre completamente sfoderabile, materasso alto comfort sempre con fascia 3D, rete elettrosaldata sempre fabbricata in Italia e vi ricordo che i nostri divani letto sono tutti fabbricati in Italia e non c'è un pezzo del divano letto che arriva da paesi esteri, quindi dal rete al bracciolo, al poliuretano, al filato, a tutto quanto. In più questo qui ha già un tessuto che è particolare perché ha dentro un'antimacchia, lo abbiamo sia con la rete da 140, quindi con all'interno un materasso da 140, che con il 160. La differenza di prezzo è che il 160 costa 1.090, come vedete nelle immagini più grandi, e il 140 a 890 euro in pronta consegna a casa vostra in due giorni. Ecco un altro divano letto, il nostro modello Sofia, questo è già un modello comunque molto confortevole anche per la parte della seduta, oltre dalla parte per dormire, ha tutta una parte qui dietro lavorata in doppio senso, quindi con la parte dove si appoggia la prima parte di schiena molto imbottita e la parte dietro quindi alta per la testa, il bracciolo come vedete sale e scende, questo per permettere l'apertura del divano, poliuretani quindi molto confortevoli, quindi molto performanti per quanto riguarda la comodità, anche qui un materasso altissimo all'interno, rete elettrosaldata sempre fabbricata in Italia e tutto quanto, in pronta consegna il nostro divano Sofia, lo abbiamo a 1.050 in due giorni a casa vostra, quindi divano Sofia 1.050, materasso alto 3D, rete elettrosaldata made in Italy a casa vostra in questo colore grigio. Io aggiungo solo una cosa, prima di acquistare un divano, non l'avevo detto all'inizio, fate sempre un giro in uno dei punti vendita di auto elettro e divani perché sono certa che troverete quello che fa al caso vostro. Io aggiungo un'altra cosa, guardate sempre le nostre recensioni che sono importantissime, su Google e Trustpilot ne abbiamo tantissime di tutti i clienti soddisfatti, noi chiediamo sempre una recensione, sempre dopo chiaramente che arriva il divano a casa, perché per noi è molto importante, perché diciamo che più del 70% dei nostri clienti sono clienti che hanno comprato, che comunque fanno passaparola perché per noi è molto molto importante. Perfetto. Allora Rosy, qua colpo grosso. Bellissimo. Allora, è un divano come vedete molto lungo, 2,70 metri, quindi è un divano che comunque può arredare chiaramente una stanza. Sono pezzi limitati perché ne avremo una quindicina, quindi in questo tessuto sempre con bordino grigio e tessuto grigio, tessuto antimacchia, la particolarità di questo divano che può essere, è reversibile, quindi destro e sinistro non esiste, quindi il destro e sinistro ma va bene anche se un domani dovete spostare la vostra sala, non c'è nessun tipo di problema. All'interno, oltre ad essere un divano comodissimo, all'interno nasconde un letto, come potete vedere, con un materasso altissimo, portacuscini chiaramente anche nella parte davanti, quindi dove potete mettere i cuscini e in più di qua abbiamo la penisola contenitore, quindi penisola contenitore rifinita in modo egregio, braccioli slim, il prezzo potete immaginare 1290 euro, solo 15 pezzi disponibili, vi faccio notare anche un'altra cosa come vedete nelle immagini, lo schienale del divano diventa come se fosse una testiera del letto, quindi comoda per appoggiare i cuscini che di solito scappano sempre. Valore, questo supera chiaramente i 2000 euro, questo qui lo abbiamo solo per 15 pezzi, a 1290 euro, pezzo reversibile, quindi vuol dire che va bene per qualsiasi stanza, quindi la misura, ve la dico già, è 2 metri a 70, 75 per 160, vi aspetto perché questo qui è proprio una bomba atomica. Allora, i divani letto, chiaramente come vedete nel link il QR code, abbiamo presentato, dove ci sono anche dei video dedicati su YouTube, dove purtroppo mi trovate anche lì, la tua presenza ormai c'è sempre, quindi insomma quella c'è, quindi divani letto potete tranquillamente guardare tutti i nostri modelli che abbiamo presentato, sia nel video che nel catalogo, quindi ce ne sono tantissimi ma non riusciamo a farli vedere. Adesso partiamo con i divani sempre in pronta consegna a puff carrello, sempre questo, un divano reversibile come il precedente, quindi destro e sinistro, quindi non preoccupatevi per se è destro o sinistro, quindi questo si cambia tranquillamente, tessuto spessorato, antimacchia, 850 euro, scontato più del 50%, in pronta consegna. Mi chiederete cos'è il puff carrello, il puff carrello è questo qua, praticamente esce così e diventa una sorta di sheslong totale e ha il contenitore. Nella parte dietro, cricchetti regolabili che servono praticamente per appoggiare la testa, quindi questo divano qui, 850 euro, uno dei più venduti, anche questo in pronta consegna, ne avremo una ventina, vi aspettiamo. Allora, qui passiamo ai divani relax, i divani puff carrello anche quelli potete cercarli tranquillamente sul nostri cataloghi sul sito online. Doppio relax elettrico, divano tre posti, 890 euro, scontato più del 50%, anche questo in pronta consegna, tessuto antimacchia grigio idrorepellente, doppia meccanica, quindi come vedete qui dalla parte di uscita anche di questo, quindi con due meccaniche, presa USB, 890 euro in pronta consegna, un prezzo davvero eccezionale. Qui un'altra super promozione, qui a 890 euro non si paga neanche l'interno. È un divano che abbiamo prodotto per la fiera del mobile, non lo produciamo più, abbiamo ancora una ventina di pezzi, li abbiamo sia destri che sinistri, un divano di super design col piedino come vedete alto, sedute molto moderne, questo bracciolo moderno, tutta la parte dietro che va a simulare come se fosse la piuma, un divano di altissima gamma. Qui il prezzo è incredibile, 890 euro, qui lo sconto siamo circa sul 70%, non sono pezzi ripetibili a questo prezzo, chiaramente perché se no dovremmo chiedere, come ho detto prima, più di 2000 euro. È il nostro divano bellissimo perché è di punta, 890 euro, destro e sinistro in questo tessuto, unico colore grigio. Rosi, come sai, chiaramente ce ne sono tantissimi i divani, non siamo riusciti a presentarli tutti, vi invito ad andare sul nostro sito dove avete il catalogo proprio solo dei pronta consegna per agosto. Altri divani è anche materassi, quindi per l'occasione, per i saldi abbiamo qui, come vedete nell'immagine, dei materassi con la fodera seta a 149 euro, col memory, che è un prezzo che non esiste in Italia perché li produciamo proprio noi. Quindi materassi in memory a partire da 149 euro. E vi ricordo, se andate sul nostro sito e entrate nei nostri motorport che avete visto nell'altra trasmissione per la precedente, se siete belli sdraiati al sole in vacanza potete fare un tour come se foste in negozio e addirittura potete misurare il divano che vi piace, quindi tracciate la riga come vedete nelle immagini e quindi dall'ombrellone, dalla spiaggia potete anticipare anche la scelta, soprattutto per i mariti che soffrono quando vengono a scegliere il divano con le mogli, potete portarvi avanti e quindi scegliere il divano in spiaggia insieme a chi volete in sostanza, quindi potete prendere anche le misure. Insomma, siamo arrivati alla fine? Sì, dobbiamo salutare, quindi grazie Ottavio, grazie a tutti voi per l'attenzione, buone vacanze a chi va e se avete bisogno di un divano pensateci adesso. Passate, prima di comprare un divano passate da Outlet Divani. Assolutamente sì.